Abbiamo visto che tra le altre cose Dio arriva dato a Padre Pio la facoltà di poter essere a conoscenza in anticipo di determinati eventi che si sarebbero verificati nel futuro. La testimonianza che mi accingo a raccontarvi riguarda esattamente ciò. Questa testimonianza ci fu rilasciata da Emanuele Brunato, un carissimo figlio spirituale di Padre Pio, uomo che era stato convertito dal frate di Pietrelcina e fu anche l'uomo che col suo agire fece sì che Padre Pio venisse liberato dalle ingiuste restrizioni che alcuni ecclesiastici gli avevano imposto. Mi trovavo nel convento di San Giovanni Rotondo, disse Brunato, e prosegui dicendo. Ero in una cella in quei giorni e scrivevo uno spettacolo sacro dal titolo Fratello Sule. Questo spettacolo sarebbe stato poi rappresentato in un teatro a Roma. Stavo scrivendo la scena finale ed ero solo in cella, questo lo ribadisco. In quella scena facevo dire a San Francesco, le seguenti parole. Colui che ha parlato per la bocca dell'asina di Balam non ha trovato su terra creatura più vile di me. Di colpo sentì bussare alla porta della cella. Era Padre Pio che disse, figliuolo, è l'ora della ricreazione. Arrivo padre, risposi. Senza aprire la porta però. Finì quindi di scrivere quella scena e poi scesi giù in giardino. Padre Pio mi domandò, ridendo. Quindi che cos'è dice l'asina di Balam? Fu la sua domanda. Sorrisi, si sa. Padre Pio sapeva sempre quello che accadeva. Non era un segreto quindi che fosse a conoscenza di quella frase che non avevo nemmeno mai detta, avevo semplicemente scritto nel testo dello spettacolo. in quel periodo era inverno. L'anno era il 1922 e a San Giovanni Rotondo, che ricordo essere sul Gargano, quindi in un luogo dove faceva molto freddo, l'inverno fu molto rigido. Era gennaio e ogni giorno, prima al mattino e poi alla sera, percorrevo i due chilometri di distanza che separavano l'abitazione dove vivevo dal convento. Ogni giorno quindi, quando arrivavo in convento, trovavo Padre Pio vicino al vercere che era intento a scaldarsi le mani. Per tre o quattro giorni di seguito, vedendomi arrivare, mi disse «Waglio, tu cadrei malato?». Io sorridevo ogni volta che lo diceva. Una sera, però, tornato a casa, mi sentì male. Avevo forti brividi di freddo, nonostante il cammino fosse acceso e il fuoco scaldava. Respiravo anche a fatica, avevo fortissimi dolori al petto, ai reni ed anche alla testa. Pregari, volgendomi a Padre Pio, e dissi «Se proprio devo ammalarmi, padre, fate che non sia qui dove sono solo e lontano da voi. Fate che accada quando sono in convento insieme a voi». A fatica raggiunsi il letto e lì persi conoscenza. Mi svegliai a notte fonda e da sotto il cuscino tirai fuori un fazzoletto a quadri che mi aveva dato Padre Pio. Era portai al naso. Là, in quel fazzoletto, raccolsi una forte emorragia, che però ebbe il merito di liberarmi i bronchi e fece abbassare anche la temperatura. Al mattino, presto, verso le quattro, potei incamminarmi tranquillamente, come d'abitudine, verso il convento. Raggiunsi il convento dopo aver vagato sotto una terribile tempesta di neve. Come al solito, Padre Pio era lì, in sacristia, vicino al bracere si scaldava le mani. Vedendomi arrivare mi disse «Beh, voglio, che ti è arrivato stanotte?». In lacrime gli raccontai l'accaduto. Riguardo all'emorragia, Padre Pio mi disse «Vedi che non sarà mica l'ultima che avrai, eh?». Ne ebbe altre due, infatti. Una la sera stessa mentre tornavo a casa e l'ultima sempre quella sera quando ero già a casa. Dopodiché guarì. Giorni dopo, mentre ero al convento, mi scaldavo con Padre Pio davanti al camino. Sentii di colpo che la febbre e quei dolori bruttissimi tornavano. Padre Pio mi guardò e disse «Ecco, voglio, sei stato accontentato?». Mi ricordai subito della mia preghiera, quando disse «Padre, se proprio devo ammalarmi, fate che sia in convento quando sono con voi e non mentre sono da solo». Padre Pio si rivolse al padre guardiano poi e disse «Emanuele è malato, ha 40 di febbre». Che dice «Le prepariamo la cella numero 6, quella che vuota? Ne avrà per 15 giorni il poverino». E infatti fu così, per 15 giorni esatti resti a letto con bronchite doppia, nevrite e infezione intestinale. Poi di colpo guarì, proprio come Padre Pio aveva predetto. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.